Grazie a tutti Notbook Lenovo con scheda grafica 2G dedicata in sottocosto a 499 euro Huawei P30 Lite in sottocosto a 279 euro Lavatrice cani 10 kg in sottocosto a 299 euro Il solo da noi paghi in 20 mesi a tasso zero prima rata a gennaio 2020 Experte gruppo Somma, gli esperti siamo noi Manuel Maras, a cui facciamo ovviamente i complimenti Maras, raccontaci un po' il gol Quell'ultimo tiro, tira un po' dalla disperazione In tempo di recupero Arriva questa importantissima vittoria per voi Intanto vi ringrazio Sicuramente la palla è uscita da un calcio di punizione al limite dell'area Io sono riuscito a chiudere la palla e metterla in porta Hai dato la seconda delusione possiamo dire a Ciro Polito Che ti ha cercato in quest'estate Tu hai scelto Livorno Oggi invece sei stato quello che ha regalato la vittoria di Livorno Un'altra delusione alla USA Ma io sinceramente queste cose non le so perché quest'estate ho vissuto una situazione un po' particolare a Pescara Purtroppo sono stato messo fuori rosa, sono stato un po' accantonato e neanche trattato bene Quindi sono arrivato gli ultimi giorni che dovevo prendere una scelta e sono venuto qua Nonostante la vittoria sembra che non vi siete riconciliati un po' col pubblico C'era qualcuno che chiedeva di andare sotto la curva, altri invece no? Ma dico queste cose come ho detto prima non sono cose che competono a me dire se andare sotto la curva o no È stata una decisione presa dal gruppo perché durante la partita sicuramente non abbiamo avuto quell'aiuto che vorremmo avere Ma io ho detto anche prima posso capire i tifosi perché la situazione in classifica non è delle migliori Questa vittoria che cosa vi può dare in ottica campionata? Sicuramente ci deve lanciare perché noi possiamo fare un campionato diverso da questo Ok, grazie